Siamo in una zona con un fondale Il fondale è prettamente roccioso, ricco di posidonia E subito poi qua fuori invece il fondale degrada dopo i 40 metri Diventando una lunga zona fangosa Dove c'è la differenza tra la zona fangosa e la zona rocciosa E c'è anche questa secca che viene su di 3-4 metri Questa è la zona ideale dove insediare i dentici Il dentice lo possiamo trovare più o meno ovunque Da acqua bassissima anche di 10 metri fino a fondale Eccolo, eccolo che sta mangiando in diretta Abbiamo sentito, eccolo qua Eccolo Eccolo qua Portiamoci con la prua verso Portofino In modo da andare un po' più veloce Un po' più veloce Grazie per la visione!